segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te non soltanto con l'istituzione diciamo con l'istituzione l'istituzione è governata da sergio mattarella secondo mandato e adesso sto pensando anche a un anno fa che c'era sanremo quando andò il capo dello stato fu un primo momento di così poi sono sempre stati sono dei rapporti che sono positivi istituzionali eccetera però come dire la sensazione anche nella conferenza stampa di fine anno tu c'eri che comunque si voglia limitare il potere politico anche e anche in questa fase in qualche modo e allora ti porto alla notizia di ieri dell'incontro di del presidente di stellantis con mattarella non con giorgia meloni che in giappone in una controversia cioè è anche questo c'è questo tema di secondo te di fastidio di voler limitare quella che viene chiamata la fisarmonica allora ho lasciato a te questo terreno sì perché scivoloso e cerco di non scivolare non scivolare anche io perché salendo e scendendo dal colle anche un cronista scivola facilmente e assolutamente il problema come diceva professore che non dicono che si limitano i poteri del presidente della repubblica cosa è auto evidente ma auto evidente in qualsiasi anche nella formula appunto del cancellierato lo sarebbe ma il fatto che non hanno il coraggio di dirlo anziché lo negano in maniera facendo saltare i nervi persino a vespa voglio dire no quando che non è uno proprio aggressivo e proprio questo è il fatto di non riuscire di voler coprire il fatto che vogliono dimensionare ridimensionare una figura che per prestigio non mattarella in sé ma comunque anche mattarella in sé perché mattarella ha dato una interpretazione della presidenza repubblica che non solo è ai vertici della del gradimento degli italiani ma anche ha saputo fare sta facendo con la sua pedagogia costituzionale quotidiana mattarella uno che sulla è un presidente che sulla riforma costituzionale non dice non dirà una parola ogni volta che noi tentiamo di farci dire ma questo è proprio siamo respinti da un muro di gomma silenzio blindato eccetera ma invece la pedagogia costituzionale il ripetere in ogni discorso due o tre articoli della costituzione racconta cosa di un presidente che ha deciso giustamente perché la sua carica tra l'altro di fare il garante e il rappresentante massimo della costituzione che prevede anche quel ruolo di arbitro nei momenti di crisi quella fisarmonica di cui penso che il paese abbia goduto nei momenti di crisi di Giuliano Amato professore altro personaggio che in questi giorni Giorgia Meloni mal tollera sono cronista quindi posso dirlo a quella conferenza stampa praticamente lo ha licenziato in diretti da una commissione una cosa che non so da Ungheria proprio nella sostanza non nella forma c'è anche il libro dell'altro giorno che non è stato presentato nella sostanza il foglio dice in realtà c'è una ricostruzione del foglio dice di Hermes Antonucci ma quale censura ci riferiamo doveva presentare Giuliano Amato il suo libro sulla costituzione insieme a Donatella Stasio nel carcere di San Vittore e è saltata questa presentazione ieri era all'apertura insomma un'enfasi su questa notizia molto forte di Repubblica e per oggi il foglio dice ma quale censura la polemica basata su nulla era solo un fatto di permessi e autorizzazioni con il presidente Amato non ha bisogno della mia difesa è la seconda volta che succedono problemi tecnici sono i famosi problemi tecnici con cui parlava il professore Clementi che raccontano un tic della maggioranza anzi strettamente di questo governo allora sì la risposta è sì Giorgia Meloni teme il ruolo del presidente della Repubblica perché è un ruolo altissimo a cui evidentemente non c'è personale politico della destra che in questo momento è il governo che può aspirare il rappresentante dell'unità nazionale più di fratelli d'Italia che si chiamano fratelli d'Italia fanno sempre l'ino italiano e stanno accettando una riforma dell'autonomia differenziata piuttosto come passecciata vogliamo così ecco che è il contrario dell'autonomia dell'unità nazionale quindi lo teme giustamente lo teme perché è una specie di convitato di pietra alla costituzione che Mattarella rappresenta mi dispiace usare toni enfatici ma è normale che il presidente della Repubblica incontri un imprenditore non si capisce che uno può scambiare questo per un ruolo politico ma un presidente della Repubblica ne ha incontrati Presidente Violante è una cosa diciamo così poi è chiaro è normale che ci sia questo tipo di interlocuzione ma è successo e anche che venga però chiamati in causa c'è un altro caso per esempio oggi il papà di Ilaria Salis che è in polemica con il governo dice sempre perché è garante dei trattati internazionali anche nella sua figura insomma di garante dei trattati internazionali allora esiste una convenzione dei diritti europea come si chiama precisamente? dei diritti dell'uomo dei diritti dell'uomo europea esiste la possibilità sempre per le convenzioni europee di una volta che Salis fosse ai domiciliari di scontare la pena in Italia il nostro ministero ha deciso che su questa cosa non si spende è chiaro che il presidente che appunto è anche il garante dei trattati delle convenzioni internazionali venga chiamati in causa è così posso chiedere a Luciano Violante ma ce l'hanno con questa figura ce l'hanno esattamente con questo genere di figura questa riforma al fondo c'è questo condivide il fondo diciamo di questa analisi di Daniela Preziosi assolutamente sì perché la figura del presidente della Repubblica in Costituzione è rappresentante dell'unità nazionale cioè laddove ci sia un problema di unità nazionale cioè di dignità di cittadini italiani lui deve intervenire deve tra virgolette ha un suo ruolo quello lì e il suo ruolo è determinato dal modo in cui non solo dalla forma poi ciascun presidente deve essere dagli altri naturalmente questo presidente interpreta questo ruolo in modo particolarmente autorevole e riconosciuto a livello internazionale quindi questo credo che sia così volevo tornare indietro su un punto però se mi permette la questione di legge elettorale perché mi sta a cuore il fatto che non si sappia bene come va a finire allora visto che al Senato c'è la riforma costituzionale perché alla Camera parallelamente non si lavora su legge elettorale di modo che parallelamente si vede bene quale sarà la figura e si potrà poi decidere in modo adeguato al Senato non so se mi sono spiegato perché io capisco che dal presidente del Consiglio questo dovrebbe proporre l'opposizione secondo lei alla maggioranza perché c'è un problema anche di atteggiamento diciamo deve arrivare una controproposta in questa fase anche se sembra che la maggioranza voglia andare ma ora sia ben chiaro è chiaro che la maggioranza intende arrivare ad un voto significativo sulla riforma costituzionale prima dell'europea è evidente questo ma questo fa parte della dinamica politica non mi scandalizza però io sto dicendo un'altra cosa nel frattempo si faccia un lavoro sulla legge elettorale alla Camera di modo che abbiamo chiarezza il cittadino ha chiarezza su quello che succede chi sarà questo presidente come sarà eletto se io apporto la legge il mio senatore il mio deputato o sarà nominato ancora una volta cioè tutte queste cose vanno affrontate con un certo senso come dire anche di prospettiva della misura è utile fare il braccio di ferro tra l'altro oggi le stesse citava alcuni esponenti del governo fanno riferimento alla possibilità di correzione di visione eccetera io credo che ho l'impressione che l'opposizione non credo che intenda collaborare a questa riforma l'altra parte non ha mai collaborato nessuna riforma Berlusconi nessuna riforma Renzi non c'è dovrebbe fare una controproposta io penso di sì lo dico con grande chiarezza non bisogna aver paura del confronto politico perché quando la mediazione è un problema le società si spaccano allora noi dobbiamo incentivare sulle riforme prendendola dalla legge elettorale prendendola dalla riforma costituzionale un processo che punti ai due terzi perché ai due terzi è il numero magico ad evitare il referendum con lo slogan volete voi eleggervi noi non possiamo né personalizzare nuovamente una questione seria come la Costituzione perché la politica lo fa perché gli elettorici cascano e viceversa né al tempo stesso lasciare però la Costituzione nelle questioni serie abbandonata perché noi abbiamo bisogno di una premiership che sia all'altezza degli standard però se vi permetti il contesto complessivo non è un contesto che aiuta no lo so perché non è che la questione costituzionale sia isolata però se non fanno politica noi troveremo sempre la politica più debole ma perciò mi avviso se si fa se si riuscisse dal punto di vista no scusi no prego mi hanno insegnato che le signore parlano prima prego l'importante adesso io devo fare invece una questione non parliamo entrambi chiedo scusa no allora però veramente a 20 secondi l'opposizione però insomma io capisco che sarebbe elegante poter confrontarsi e fare una diciamo un bel minuetto un bel dibattito il Parlamento ma qui abbiamo una maggioranza sembriamo che se no sembriamo su Marte una maggioranza che procede in maniera piuttosto cingolata con i trattori mettiamola così e se l'opposizione fosse così clemente così clementi finirebbe per doversi intestare quello che stanno facendo cioè una pessima riforma senza alcun interesse per la legge elettorale come dice il presidente noi sappiamo che l'aventino è finito male ma non è una questione di aventino guardi in Parlamento anche se prova a essere tanto presente a fare tutte le cose che stanno facendo loro non si passa non si passa non si passa non si passa su legge che i parlamentari di destra di media maggioranza manco leggono quindi non si passa quindi il tema è che il referendum ci sarà diciamo che il referendum io volevo chiederlo però il referendum non è una lettura in questo momento professore non lo so scusi